Continuano senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal gruppo Carabinieri di Locri, finalizzati alla repressione dei reati attinenti le armi e gli stupefacenti, effettuati con il supporto dei colleghi dello squadrone li portato Carabinieri Cacciatori di Ibo Valencia. In tale ambito i Carabinieri della Compagnia di Rocella Ionica hanno tratto in arresto e in flagranza di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 57enne Lavorata Giovanni, gestore di una grande azienda agricola ubicata tra i comuni di Riace e Camini che si estende per più di 100 ettari di terreno impegnata principalmente nella produzione di olio. In particolare all'esito di perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto nei terreni dell'azienda proprio tra le piante di olivo quattro piazzuale ovvero hanno poste a dimora circa 1200 piante di cannabis indica di altezza compresa tra gli 80 e i 140 centimetri la cui irrigazione era consentita da un sistema goccia alimentato da una cisterna. Una piazzuola dove vi erano i semi germogliati di ulteriori 700 piante. Nella circostanza nel corso dell'attività di polizia giudiziaria da un'attigua struttura adibita a deposito in uso a lavorata sono stati rinvenuti inoltre quasi tre chili di marijuana già essiccata, diverse buste in cellofan trasparente per l'imballaggio, una bilancia da precisione digitale, una macchina marca per il confezionamento sotto vuoto. L'intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ad eccezione delle piante che previa campionatura sono state distrutte in loco. L'arrestato su disposizione del sostituto procuratore di turno presso il tribunale di Locri, il dottor Rocco Cosentino, è stato tradotto presso la casa circondariale di Locri.